sono circa le sette meno un quarto o esè 45 stavo portando fuori l'ula a fare i bisogni ho visto dentro un arbero che c'è stambuco che è pieno dei pioppini i funghi mo io vado a fare namo per chi mi conoscesse i pioppini sono dei funghi selvatici che crescono all'interno della guercia del pioppo stavano lì mi sono da prendere ciao amico e ovviamente ciao amica a a gratis amico o scherzante ritento saranno 3-4 kg eh amico non è che io metto a posto perché devo fare che volete voi forse i baci che metto a posto perché devo fare il video perché io metto tutte le mattine a posto cioè il camper già è piccolino in più se ci lasciamo tutte che volete voi volete i baci aiuto che se mangiamo oggi una cosa a gratis a gratis stiamo pulendo i funghi amico eh ah indirizzo sconosciuto faccia un po' vedere come se puliscono se leva un fungo così se leva su per giù 4-5 cm se taglia come i porcini se puliscono come i porcini uguale un panno un panno bagnato così qua via così via passa la paura eh che robetta amico ma che c'entra loca i sto coce in due volte perché sono tanti guarda che belli amico e il primo giro è andato andiamo col secondo per chi non ne avesse capito io l'ho ripassato in padella ha aglio, olio, peperoncino e un po' di mentuccia a me invece piace la mentuccia però non è obbligatorio metterla sale qb quanto basta qb quanto basta che dici? qui? 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 qui?